Siamo a New York Times Square, al mattino presto alle 8. Tutto a luci, il sole non si vede, c'è pieno di taxi, gialli, Heineken, il negozio della Tizzi, il negozio della Tizzi, tutto il giorno, taxi, 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 via Broadway, via Broadway, là giù c'è il nostro hotel, pulmono scoperto. Siamo nella 48esima strada. Questa è Times Square nel pieno del casino. Com'è Silvia? Casino. Casino, eh? La c'è il notiziero con la pula. La c'era un pazzo che cantava mezzo nudo. Ancora. Qui c'è la Virgin, Planet Hollywood, luci, azteca. Cosa vuoi fare? Entriamo nel Virgin. Puoi entrare lì? Virgin. Però lì non possiamo filmare, mi sa. Guarda che villa e raffica di taxi che arrivano. questo è il negozio Walt Disney. Tre piani, è pazzesco. Tutto Disney. Qua penso che un bambino ci riesca di testa. Nemo. Poverino. Voglio prenderlo? Nemo. Eh? Nemo, sì. Prendilo, dai. 11 dollari, 95. Quanto? 11,95. Prendilo, dai. Allora, penso che è il figlio. Grazie. 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 Ora siamo al Dennis in un tipico ristorantino americano di fronte al Best Western a Paffalo. Questi sono i piatti. Ciao. Vedete che siamo proprio quelli da strade, no? Questo è un gusto strano. Ciao. Buon appetito. Ti cogli, eh? Pancetta. Good. So good. Vabbè, ciao, buon appetito. Ora siamo sul lato americano delle cascate. Non si vede niente. Guarda che potenza. Guarda i tronchi. In acqua... Ciao. Qua siamo sul lato canadese dalle cascate del Niagara. Ciao! È un bello spettacolo. Dall'altro lato ci sono gli Stati Uniti. Siamo in Canada, in Ontario. Il tempo è un po' così così. Aperiamo bene. Quanta acqua. Intentazioni sul listo. App